Sai che nel mondo due storie simili possono avere finali diversi? Alcune famiglie lasciano che i loro figli e le loro figlie decidano da soli con quali colori vestirsi. Altre, invece, no. Sono ancora tanti i bambini e le bambine che non possono scegliere le cose che più li piacciono. Ecco perché dobbiamo agire per cancellare le differenze e fare in modo che tutte le persone abbiano gli stessi diritti e uguali opportunità.